È una partita importante e bella da giocare sabato, ci faremo trovare pronti come è stato sempre. Ora loro sicuramente avranno la qualità dei tanti giocatori, fenomeni che hanno in rosa, quindi magari nel collettivo il Bari può venire fuori, magari nel singolo, anzi sicuramente nel singolo la differenza fa la Roma. Sicuramente quello che ci ha contraddistinto contro le grandi squadre è la voglia di portare a casa il risultato, il sacrificio da parte di tutti è la corsa dal primo al 95esimo. Noi ci giochiamo partita dopo partita per vincerlo, poi quello che sarà a fine campionato vedremo. Ora che siamo salvi sicuramente siamo più sereni e il gioco che facciamo noi con l'umore che c'è adesso sarà tutto più facile. Sognare non è un problema, l'importante è che quando si scende in campo uno sa quello che vuole e sa realizzare quello che chiede il mister.